Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il rapper Geolier ha archiviato la storia d'amore con Valeria D'Agostino per la nuova fiamma Chiara Frattesi, sorella del calciatore Davide. La coppia si è conosciuta durante una vacanza di lusso in Sardegna, dove Geolier ha pagato tutto il soggiorno per conquistare il cuore di Chiara. Geolier era precedentemente legato a Valeria D'Agostino, mentre Chiara Frattesi era felice con il calciatore Weston McKennie. Dopo aver chiuso entrambe le relazioni, i due si sono incontrati e è scattata la passione. Durante la vacanza in Sardegna stanno approfittando per conoscersi meglio. La passione tra Geolier e Chiara è esplosa proprio in Sardegna, come confermano i post sui social durante la vacanza. Prima di ufficializzare la relazione, i due vogliono assicurarsi che la storia non si sciolga come neve al sole, quindi stanno prendendosi il tempo per conoscersi meglio. La nuova coppia dell'estate 2024, Geolier e Chiara Frattesi, sta facendo parlare di sé per la loro storia d'amore nata in Sardegna. La passione tra il rapper napoletano e la sorella del calciatore Davide sembra essere destinata a durare, ma entrambi vogliono procedere con cautela prima di rendere ufficiale.